La 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 da forti protagate, è questa la vendetta che noi vi domandiamo, è questa la vendetta che noi vi domandiamo, ma tu che ci discacci con una vil menzogna, repubblica borghese, quindi ne avrai vergogna, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire, scacciati senza tregua, andremo di terra in terra, a predicar la pace e da bandir la guerra, la pace tra gli oppressi, la guerra gli oppressò, la pace tra gli oppressi, la guerra gli oppressò. Ma tu che ci discacci con una vil menzogna, repubblica borghese, quindi ne avrai vergogna, e oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire, scacciati senza tregua, andremo di terra in terra, a predicar la pace ed a bandir la guerra, la pace tra gli oppressi, la guerra gli oppressò, la pace tra gli oppressi, la guerra gli oppressò. E' il bestia e il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo, le tradizioni che si rende, d'un popolo gagliardo, le tradizioni che si rende, d'un popolo gagliardo, e' il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo, le tradizioni che si rende, bellissime, montagne, trici, ne, i cavaliere rancgi, suscraccinati al nord, i cavaliere rancgi, suscraccinati al nord, che legge mi pare i soldi, da i cart 다üri di montec?. Per amici daughter Мнеle di montagna è la c DFL matrima ma, ma consumingi da le fate diπla, commembrata un proportionale,